Un bel rimbalzo quello di oggi ma che in realtà non è che cambi proprio tutte le carte in tavola su quello che è successo nelle scorse giornate c'è tanta indecisione ancora sulla questione ragazzi di FTX crash non crash sono uscite delle news le vediamo oggi facciamo tanti video questa settimana lo so però è una settimana particolare ragazzi quindi va monitorata andiamo a vedere però oggi solo i grafici quindi senza fare il pippone come l'altro giorno eccetera quindi oggi facciamo un video focalizzato totalmente sui grafici e sulla analisi su quello che è successo perché è tiriamo fortissimo rimbalza del 20% anche bitcoin solana riprende respira ma cosa dicono i cicli cosa dice l'analisi tecnica che cosa sta cambiando quali sono le diverse ipotesi le vediamo in questo video intanto bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video velocissimo solo un leggero briefing su quello che è successo sulla questione e la vicenda FTX Binance si tira indietro ieri nella giornata nella sera quindi annulla totalmente la possibilità di partecipare acquisire eventualmente FTX si mette in campo Justin Sun alle 4 del mattino io ancora sveglio ce l'ho ok così ragazzi con questa situazione si tira in campo Justin Sun dice faccio io crea una serie di arbitraggi all'interno di FTX dove abbiamo le criptovalute che hanno dei prezzi totalmente fuori luogo rispetto a quelli normali perché dice ah io rendo possibile il withdrawal dei TRX quindi Tron schizza le stelle su FTX mentre l'esterno è diverso quindi anche volendolo prelevare ho fatto un tweet oggi ragazzi volendolo prelevare praticamente si perdeva l'80% del valore quindi a che cavolo serve vabbè detto anche questa cosa qui in pratica invece SBF quindi Sam dice che servono dei nuovi finanziatori ma che ci sono molte possibilità su questa cosa qui perché in una specie di mail che è circolata insomma delle cose che circolano underground ragazzi sembrerebbe dire che ci sono comunque delle possibilità di avere questi investitori insomma tenta ancora la carta di avere nuovi finanziamenti per salvare il tutto per tutto ma cosa hanno fatto allora ragazzi il business model di un exchange come ripetuto da un po' di tempo per fallire così come è successo deve esserci il dolo cioè non è possibile che sia un inghippo del progetto chiamiamolo così non può accadere infatti c'è il dolo cioè hanno preso e prelevato i fondi dei customers e li hanno utilizzati per fare cose assurde su Alamida tutto ciò non era né visto neanche nell'analisi di CoinDesk non c'entrava nulla con FTX l'analisi di CoinDesk ragazzi quindi tutte quelle informazioni che erano traballate prima di questo evento di Liquidity Crunch non indicavano in nessun modo che FTX avesse prelevato fondi per darvi ad Alamida nemmeno CoinDesk l'aveva fatta questa cosa neanche CC l'aveva indicato quindi tutto questo calderone è venuto fuori durante un attacco che è quello che è venuto domenica che sembrava essere irrisorio e comunque non toccare in nessun modo FTX perché ragazzi se avessero mantenuto i soldi dei customers dove dovevano stare nella Treasurer e non toccati era impossibile che un evento del genere succedesse quindi hanno fatto magheggi e hanno il dolo dietro questa cosa perché non c'è nessun altro modo perché avvenga una cosa del genere ed è il motivo ed è tutto questo scavare che stiamo andando a vedere quindi piccolo briefing di aggiornamento questo proprio anche per comprendere no? come a volte quando si va in eccesso di volatilità in eccesso di emotività e si aleggiava al crash dell'exchange ragazzi ai tempi con le informazioni prese da CoinDesk e dette anche da Binance ACG non c'era possibilità se non avessero fatto i magheggi cioè se non avessero proprio falsificato ogni cosa un imbrogliato ragazzi avete capito? perché non c'era modo di FTX alla mite si poteva cadere ma FTX no ragazzi non c'era proprio modo dovevano fare quello che hanno fatto e l'hanno fatto vediamo che succede perché secondo me questa volta non la passano liscia in nessun modo e ci sono c'è da ragionare su tante cose da questo punto di vista e comunque ragazzi lo so che fa un po' male ma magari una cosa del genere modifica un po' le carte di tavoli io spero che acquisiscano FTX perché la piattaforma ancora top leader nel trading e nelle operatività quindi se arrivano qui da acquisiscono l'intero progetto e lo rendono trasparente a questo punto con gli occhi grandi così figata perché comunque la piattaforma a livello informatico resta molto utilizzabile andiamo a vedere i grafici io parto da questo grafico qui ragazzi che è il grafico Ethereum BTC per farvi vedere come Ethereum ancora una volta schiaffeggia Bitcoin perché questo candela verde ragazzi non è una candela verde di recupero dalle giornate di ieri ma è la forza relativa di Ethereum contro Bitcoin Bitcoin non ce la fa ragazzi è al palo e proprio ogni volta anche in queste situazioni dove si vocifera e si dice ah Bitcoin è superiore a queste cose il grafico non lo mostra poi un domani succederà che attaccano anche Ethereum eccetera ci mancherebbe questo il futuro nessuno lo conosce ma gli attuali dati oggettivi non opinioni questi sono dati oggettivi dimostrano che il mercato non considera Bitcoin non correlato ad Ethereum quindi lo considera la stessa stregua addirittura negli ultimi anni meno forte di Ethereum e questo è un dato di fatto solo e unicamente un break di questo livello di questo grafico che vi faccio vedere qui che adesso vedremo insomma ragazzi questo qui indicherebbe una ritrovata forza relativa del re delle criptovalute rispetto ad Ethereum e quindi a quel punto secondo me anche rispetto a tutta la questione della proprio della di delle criptovalute in generale tra le altre cose questa struttura farrebbe proprio una specie di new accumulation range quindi una nuova struttura di accumulazione stile Wyckoff ve la faccio vedere eccola qui ragazzi questa è la struttura come la barra di accumulazione che è quella di Wyckoff ed è una accumulazione non di distribuzione vi faccio vedere questa è la distribuzione dove la oddio ho preso due accumulazioni aspettate vi prendo la distribuzione eccola questa è la barra di distribuzione di Wyckoff dove c'è questa struttura qui l'UT ragazzi che è la parte alta mentre invece nella barra di accumulazione abbiamo lo spring questa grafico di barra di Ethereum contro Bitcoin è molto più simile a questa struttura cioè a quella di accumulazione con lo spring poi ovviamente va confermato ricordatevi queste sono tutte analisi aleatorie però hanno delle indicazioni quindi non le utilizziamo per quello che sono nel momento in cui devo andare a vedere un grafico del genere è ovvio che non assomiglia a questo ragazzi perché non ha la parte alta qui ma è esattamente al contrario è vero che c'è questa struttura però è vero che c'è questa struttura che è tutta in barra mentre la fuoriuscita sul minimo è avvenuta in questa fase qui quindi sembrerebbe vedete proprio indicare questa formazione qui con la prima parte qui che è la struttura di ARST e poi la resistenza sul massimo poi la fase ribassista vedete di questa è tutta la struttura poi di Wyckoff e poi soprattutto io di Wyckoff prendo solo alcuni punti perché sono molto importanti cioè lo spring e oscillazioni per vedere la forma deve esserci anche questa struttura concava qui al centro che è simile a questa zona non vi aspettate mai di vedere delle forme che sono identiche ovviamente perché a dirò sono così precisi poi vanno confermati però questo grafico indicherebbe ancora una volta che probabilmente nelle prossime settimane Ethereum potrebbe continuare questa sua forza su Bitcoin adesso però ragioniamo su quella che invece è la struttura ciclica al di là della questione della comunicazione dell'accumulazione di Wyckoff che può starci ma è anche un po' interpretativa dal punto di vista di analisi ciclica certamente sul minimo del 12 il 14 di giugno 13 giugno scusate qui è iniziato un nuovo ciclo annuale della spread BTC Ethereum quindi Ethereum BTC a dire la verità quindi questo ciclo va in chiusura il prossimo anno a settembre circa più o meno ora se dovesse essere un ciclo di natura, cioè questo può essere anche un ciclo ribassista ragazzi rispetto a Ethereum però da questa zona in poi inizia un nuovo annuale quindi siccome questi grafici io li guardo solo per il lungo periodo non li guardo per fare trading di breve, questi sono grafici che indicano forza relativa tra le due top player del settore cripto quindi è molto rilevante andarli a considerare, quindi da qui in poi potremmo assistere ragazzi ad una nuova fase up ora se questo ciclo annuale Ethereum lo gestisce bene e non va giù, questo è il discorso da qui potrebbe iniziare una cosa del genere, il che significa che dal prossimo anno bisogna stare fortemente attenti quindi ha proprio un evento che fa recuperare moltissimo anche Ethereum il tutto però avviene solo e unicamente se questo minimo non viene imbreccato quindi questa zona qua, se questa zona non viene imbreccata allora la forza relativa di Ethereum continua a essere secondo me imponente ed è da valutare, questo lo dico perché moltissime volte diciamo in questa fase moltissimi dicono ah ma andiamo su Bitcoin perché adesso crolla tutto però non è quello che dicono i grafici perché da un punto di vista grafico Bitcoin non ha più forza rispetto a Ethereum e anche nei rimbalzi questa cosa continua a vedersi ragazzi purtroppo per alcuni e quindi questa cosa la dobbiamo considerare tra le altre cose un altro giorno nella live avevo anche visto il fatidico grafico di BTC contro Nasdaq adesso vediamo se lo trovo, eccolo qui e anche questo denota appunto questa struttura con un nuovo minimo che è avvenuto proprio nella giornata di ieri dopo il megacrash che è avvenuto a mezzanotte questo minimo è sufficiente a questo punto ragazzi per indicare la possibile ripartenza di un nuovo ciclo annuale su questo proprio su questo grafico che significa che Bitcoin nei prossimi giorni potrà essere più forte di Nasdaq allora il tutto ci porta ad una conclusione ben precisa cioè alla famosa possibilità del rally natalizio di cui vi parlo da inizio mese e posto metà di novembre siamo al 10 io ancora attendo qualche giorno perché questo rialzo potrebbe essere l'ultimo spike prima di fare l'ulteriore affondo è pericolosissimo ed è proprio per questo che ghiotto cioè chi si gioca a questa mano e dice ok io vado long ora giustamente ragazzi si assume un rischio abnorme che questo sia il rimbalzo del gatto morto visto che la situazione FTX è completamente irrisolta al momento e allo stesso tempo se va a prendere che guadagna che quindi è partito effettivamente una nuova fase proprio dal minimo di ieri giustamente si porta a casa molti più cash ma questo è gambling non è investimento se vogliamo investire in maniera corretta e coerente bisogna ancora attendere che avvengano dei segnali del mercato questo poi sta a ognuno di voi quindi soggettività e soprattutto capacità di gestire anche rischi che ci sono in queste fasi questo ovviamente lo dico perché c'è da ragionare su queste cose però questi sono dati e di natura abbastanza oggettiva anche questi questo è un ciclo su un altro spread meraviglioso che è bitcoin contro nasdaq e ci indica la forza relativa proprio del mercato e le cripto verso il mercato hold teoricamente con l'ultimo crash potremmo aver concluso questa forma ciclica che è a un annuale ternario se una cosa del genere avvenisse e nei prossimi giorni potremmo assistere ad un recupero delle cripto in maniera più che proporzionale rispetto alle tecnologie hold allora potremmo avere un nuovo annuale confermato solo fra almeno un mesetto ci vuole un mese per avere questa conferma ancora qui non è un'operazione di trading ma è un indicatore ragazzi della scambio della salute del mercato cripto se avessimo risolto o non ci fosse stata la questione FTX nella giornata di oggi come vi dicevo ieri mi attendevo dati migliori delle attese sull'inflazione così è stato nella live ve l'ho specificato infatti questo di altro è tutto guidato dai dati macro che sono molto buoni e portano probabilmente i mercati hold ad andare verso i rally di Natale tutto è andato per pilo e per segno rispetto a quello che ce l'avamo detti nei mesi scorsi tranne domenica, mercoledì questo disastro che è avvenuto nel settore cripto solo cripto quindi che non c'entra nulla con le analisi in questione se non fosse avvenuto una cosa del genere ci ritroveremo con Bitcoin a 23-24 Ethereum già intorno ai 1800 in questo momento ragazzi e quindi tutto dovuto a quella situazione lì che era una situazione esogena e non aveva diciamo granché grandi motivi passiamo a guardare quello che è un grafico di Ethereum magari prendo qui perché altrimenti lì ci sono anche gli altri cicli tutti gli inversi quindi succede un macello non si capisce nulla che ho fatto ok riportateci ok allora questo è il grafico di Ethereum non ho perché è importantissimo ragazzi perché non ha fatto un nuovo minimo non ha fatto né un minimo in shadow né un minimo in close rispetto a questo qui di giugno ciò mi riporta purtroppo vedete alla situazione che vi accennavo nella live di ieri una live importante che sono stato un po' cattivello all'inizio ma io ogni tanto ragazzi io sono molto tranquillo però ogni tanto è giusto anche dire delle cose quindi se non l'avete visto andate a vedere la live di ieri perché è anche il punto di vista molto importante anche per capirci per parlare normale come un bar allora Ethereum non ha rotto il minimo del ciclo di giugno questo significa che se parte un rally da qui non è possibile che l'annuale si sia chiuso quindi l'annuale sarà quello di giugno e a quel punto Bitcoin ha un annuale ribassista quindi la questione è ancora completamente irrisolta da un punto di vista ciclico e tecnico questo rimbalzo non modifica nulla di nulla semplicemente è un rimbalzo al momento poi se da qui si dovesse andare per esempio a invertire totalmente questo trend lo si farà sopra questi livelli in pratica allora da qui è iniziata una nuova fase quindi questa è una struttura ciclica che poi vedremo che cos'è ma l'annuale è iniziato a giugno e se Ethereum ha un annuale a giugno è difficile che Bitcoin abbia un annuale per i cavoli suoi come si suol dire quindi probabilmente l'annuale di Bitcoin sarà ribassista in quel caso quindi è bruttissima una cosa del genere abbiamo tanto da controllare e da comprendere e poi valutare la questione al momento io mi aspettavo il rimbalzo ve l'ho detto sempre nella live di ieri nella parte dove abbiamo visto i grafici perché c'era l'inizio di un nuovo ciclo settimanale è un rimbalzone ci mancherebbe un rimbalzone gigante per un ciclo settimanale però c'è e questo è un ciclo che probabilmente può essere un settimanale o un nuovo mensile ma bisognerà vedere allora qui non abbiamo nessun tipo di dato al momento per comprendere la natura di questo ciclo bisogna andare nei sottocicli piccoli che guardate un po' questo settimanale va a concludersi esattamente intorno al 15 18 di novembre questa zona qui quindi se questo è rimbalzo del gatto morto finiamo qui e già da domani il mercato ricomincerà a scendere e poi farà una cosa del genere per indicare un doppio passo quindi una nuova fase dobbiamo avere almeno 3-4 giorni senza breccare questo minimo almeno 4 giorni senza breccare questo minimo qui quindi dobbiamo andare a star su per almeno fino a domenica circa non scendere più sotto i 1100 qui circa di Ethereum e poi da qui si gioca la partita perché non è che sia finita qui quindi siamo safe safe qui bisogna sempre attendere metà 18 di novembre la zona che vi dicevo da lì in poi si giocano le carte tutta questa struttura è fantastica perché ci dà un sacco di age per fare trading ma poi la domanda è dove lo facciamo ormai questo trading? vabbè allora ragazzi io a dire la verità al momento mi sono spostato su BitGate per fare il trading non c'è altra alternativa per il future della leva vi lascio il link in descrizione mi date una mano su BitGate quindi vi riproporrò praticamente le operazioni da FTX che ci sono ancora i miei fondi lì però non lo sto facendo più il trading oggi ho spento tutto perché ha dei prezzi che non sono più quelli di mercato quindi sposto il mio trading su BitGate che al momento ci fa operare poi vediamo questa proof che Binance dice di dateci la prova dei fondi vediamo adesso tutti gli exchange dovranno dare questa cosa però abbiamo bisogno di leva abbiamo bisogno di future per il trading di piattaforme belle innovative e sbrigative quindi sto utilizzando BitGate vi lascio il link in descrizione al momento sto funzionando di nuovo not your keys not your crypto è questo lo sapete quindi teneteci lì la roba che vi serve per fare il trading come è quello che ho fatto io anche su FTX solo che mannaggia avevo tanto trading lì su FTX vabbè allora detto questa questione ragazzi da un punto di vista ciclico questa è la situazione su su Ethereum Bitcoin è identico quindi non ve lo faccio vedere perché è uguale anche lui ha questa struttura ciclica mensile e bisogna raggiungere aspettare il settimanale per comprendere qualcosina in più questa cosa invece di Nasdaq ve la faccio vedere perché? perché su Nasdaq non è successo nulla e il minimo del 13 di ottobre ha retto questa fase di bassista quindi il mensile del 13 ottobre iniziato su Nasdaq è ancora in corso ed è un mensile che non ha in questo momento è neutrale vedete ha un minimo in questa zona e sostanzialmente non è stata breccata questo è un minimo leggermente superiore può tranquillamente fare uno spike qui nei prossimi giorni e poi chiudere il ciclo mensile non c'è niente di strano anzi solitamente avviene una cosa del genere è anche una figura abbastanza pulita in questo caso quindi può ancora fare un ciclo mensile al rialzo attenzione perché anche qui se siamo in un annuale iniziato a giugno è un annuale ribassista e quindi anche se recuperiamo per uno o due mesi con il rally di Natale poi il prossimo anno bisogna rimettere le carte in tavola però di questo poi ne parliamo ragazzi perché fare previsioni troppo lungo periodo veramente è la palla della sfera magica quindi poi non ci serve per operare perché tanto non li possiamo usare queste produzioni per operare perché dobbiamo attendere i mercati quindi Nasdaq è messo così vediamo Solana che cosa sta sta facendo dove sei eccola qui ragazzi allora si recupera tantissimo 25 punti Solana ma la questione di Solana è questa io al momento non farei nulla perché al di là della struttura di rimbalzo che è stata estremamente consistente Solana sembra aver iniziato un mensile il 21 di ottobre questo mensile è ribassista ragazzi questo è il concetto quindi a meno di situazioni di cicli superiori che sono andati a confluire con un annuale che si è spostato perché l'unica soluzione sarebbe un'anomalia di un annuale iniziato qui che si è chiuso ieri con 478 giorni cosa stra possibile però molto anomala per una serie di questioni quindi io prima di ragionare da questo punto di vista ci aspetto aspetto proprio insomma alla fine sui cicli inferiori comunque un 19 giorni non è certamente un mensile è troppo piccolo questo significa che qualora qui si è iniziato un nuovo movimento questa struttura è un cosiddetto raccordo ciclico un'anomalia ciclica chiamatela come vi pare che però va a chiudere un ciclo superiore e quindi dovremmo andare a rianalizzare le cose perciò al momento la soluzione stile rasoio di Ockham quindi la più banale la più semplice è che questo ciclo mensile è ancora in corso e che non c'è scampo a questo punto nel fare una cosa del genere un doppio che sia poi magari dalla chiusura di questo mensile si potrebbe diciamo ragionare diversamente quindi l'unica possibilità in questo momento per Solana di riprendersi in maniera ottimale e andare ad aver chiuso un ciclo anomalo qui da sola e questa cosa secondo me non è possibile soprattutto anche perché insomma bisognerebbe ragionare ragazzi sulla cosa o lo fanno anche in Tino BTC oppure c'è da attendere io aspetterò qualche giorno ho sempre i miei train system attivi anche sulla parte old che erano usciti qualche giorno fa il primo crash l'hanno preso il secondo per fortuna no quello di ieri no però se rientreranno io li seguo con grande malincuore vi dico perché sta andando quel train system sta andando male perché non è adatto a queste fasi concitate ma è adatto a lunghi periodi perciò ragionare su due tre giorni non è l'ottica di quel train system che vorrebbe ragionare a due tre mesi e invece i mercati sono così su e giù cambiano così direzionalità nell'arco di poco tempo che in pratica prendono in giro quelle macchine quelle strategie non vanno a buon fine quindi quelle sono delle strategie che hanno degli errori che io già conosco che le ho fatte io e in queste situazioni non rappresentano bene i mercati quindi bisogna stare molto attenti con il money management position sizing proteggersi in altri modi che insomma avevo già strutturato con altri sistemi di trading che però sono fuori uso perché erano tutti strutturati adesso su FTX quindi un po' la questione va rivista io potrò farli su Binance tranquillamente perché ho i future su Binance però non tutti in Italia per esempio non ce l'hanno quindi la questione andrebbe rivista vabbè detto questa cosa vediamo un po' il tutto e ragazzi questi sono gli aggiornamenti vediamo se questo rialzo ha il fiato corto se ce l'ha lo si vede già da domani dopo domani almeno 4 giorni up e poi un settimanale up per avere un nuovo ciclo mensile iniziato ieri se non è così si fanno nuovi minimi non c'è un'altra soluzione ciao ci vediamo nel prossimo video